Si sta per concludere la prima fase del campionato di B interregionale e la Teramo a spicchi dopo la vittoria nel derby contro Pescara ha di fatto concluso la settimana di allenamenti, pronta per giocarsi le sue carte nella prossima partita. I due punti ottenuti al Pallelettra hanno ridato fiducia, entusiasmo e voglia di vincere Biancorossi, così come ha confermato ai nostri microfoni il giocatore Leonardo Prenga. Questa vittoria ci è servita molto a farci ritornare alla fame di un tempo, perché comunque il campionato sta per finire e quindi ogni possibile punto sono fondamentali. Adesso dovremmo lottare contro Bramante, una squadra molto solida, una squadra che sa giocare bene insieme, ma nonostante sta per finire il campionato, è una squadra forte, non sono scusa anche perché giochiamo in casa e sono due punti fondamentali. Una vittoria che serviva assolutamente perché infatti il cambiamento si vede, anche perché dopo questa vittoria abbiamo un po' riassoperato la fame, infatti adesso vogliamo continuare a vincere, sappiamo qual è la sensazione e non la vogliamo più perdere, vogliamo continuare solo a mangiare i punti. E adesso si staglia all'orizzonte la sfida contro Bramante-Pesaro, partita sulla carta difficile, ma adesso non è più tempo di fare calcoli o guardare troppo l'avversario, servono punti fondamentali per non finire nella zona calda della classifica. Non c'è nessuna scusa, qualsiasi squadra si presenti davanti, ormai il campionato è quasi finito, noi dobbiamo andare al massimo, soprattutto anche perché giochiamo in casa, ma anche fuori casa noi abbiamo bisogno di due punti.